Con il dottor De Biasio, presidente regionale dell'Unicef, all'apertura della terza edizione di Rieti, città amica dei bambini, oggi cerimonia inaugurale, è un riconoscimento importante questo per Rieti ma per ogni città che sia a misura di bambino. Questo è fuori di dubbio ed è questo il motivo per cui noi ci teniamo tanto in particolare alla città di Rieti perché ha chiesto ed è città amica dei bambini, però è una delle poche purtroppo che veramente lavora nell'interesse dell'applicazione dei diritti dei bambini. E quindi, come diceva lei, giustamente è il terzo anno che si organizza questa manifestazione ed io sono qui proprio per dire grazie a nome dell'Unicef nazionale. È l'Unicef impegnata in tantissime cause, in tantissimi fronti. La provincia, insomma, in questa sede è stata, la delegazione provinciale di Rieti è stata qui presente e sarà presente anche per tutta la settimana con un banco. Sono tante le emergenze purtroppo nel mondo che richiedono ancora costantemente l'intervento e l'interesse dell'Unicef e di tutte le persone fondamentalmente. Sì, questo è vero in modo particolare poi per i paesi in via di sviluppo che sono quelli che sono stati assegnati all'Unicef dal 1956. Quindi l'Unicef, l'importante, a differenza di altre associazioni, lavora sempre concordando i progetti da realizzare con i governi dei singoli paesi. Anche in questo caso c'è il disastro del Nepal. L'Unicef come attività straordinaria sta raccogliendo i fondi per cercare di continuare a dare aiuti a queste popolazioni. Dico continuare perché quando si tratta di emergenza, anche se si tratta di un paese che non ha contatti con l'Unicef, l'Unicef è sempre comunque presente. Grazie. 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 Grazie.